Paura o verità? Clio! Mmm, paura! Allora devi... Bacciare Webby! Claudine, tocca a te! Paura o verità? D'accordo, ehm... Proverò con verità. Oh, ce l'ho, ce l'ho! Qual è il tuo sogno più grande? O meglio, che farai quando non dovremo più nasconderci dagli umani? Beh, quando ero un cucciolo mannaro vivevo in una tana buia e sporca. Era spoglia, senza stile. Ma poi la Monterrey mi ha trovata e mi ha permesso di scoprire quanto sia importante per me la moda e creare vestiti per gli altri. Quindi direi che il mio sogno sia quello di aprire un salone di bellezza. Un posto per tutti, sia per i mostri che per gli esseri umani. Un posto del quale io sarò la capo stilista e che farà dire al mondo... Auuuuh! Siete grandiosi! Oh, Monster Monster High Monster High Monster Monster High Come on, not be shy Monster High A body never dies Monster Monster High